buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti ragà napoli sampdoria napoli sampdoria ancora il commento del giorno dopo veramente bella partita si salvano un po tutti veramente sono sono contento un po si salva si salvano tutti tranne qualcuno che ha fatto qualche errore iscrivetevi al canale attivate la campanella e parliamo un po dell'analisi di questa partita questa partita che per me è dato un segnale di risveglio dopo dopo la brutta sconfitta contro la juve proprio è andata male però veramente oggi ho visto la squadra molto 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 bene mi è piaciuto molto un po tutti mi sono piaciuti tutti però il migliore in campo è stato mertens mertens che veramente mi sta piacendo ha fatto tre gol si è fatto biondo mi raccomando a 2000 follower cioè a 2000 iscritti su youtube mi faccio biondo non su instagram allora iscrivetevi al canale è attivata la campanella forza napoli meret si salva un po tutti si salvano però veramente questo è un segnale che noi possiamo dobbiamo battere le squadre inferiori per vincere il campionato perché vedo questo campionato molto difficile e noi dobbiamo lottare come il pane adesso adesso andiamo a giocare a lecce una partita non da sottovalutare perché si sa noi abbiamo sottovalutato una partita contro il chievo e abbiamo fatto 0 0 comunque lasciate tanti like al video iscrivetevi al canale e naturalmente seguitemi su instagram matteo trattino basso dimitri comunque iscrivetevi al canale e attivate la campanella e e niente forza napoli iscrivetevi al canale napoli nel cuore ciao